In viaggio per fuggire da guerre, fame, povertà e disperazione, i migranti che nel nostro paese cercano un approdo sicuro vengono inizialmente ospitati nei centri di accoglienza straordinaria in attesa di costruirsi una vita migliore di quelle lasciate alle spalle. Ma cosa sono i CAS e come funzionano? Lo abbiamo chiesto a Gaetano Losa, vicario della prefettura di Pescara che si appella ai cittadini della provincia affinché mettano a disposizione immobili inutilizzati per l'accoglienza dei migranti. L'accoglienza in generale si può realizzare in due modi o attraverso dei centri di accoglienza straordinaria che si chiamano centri che possono essere o collettivi o anche delle singole unità abitative nel senso che ci sono delle possibilità di accogliere questi migranti di asilo in delle strutture che possono essere o di tipo collettivo quindi una struttura con 20-30 posti letto oppure si può utilizzare anche un sistema molto più diffuso, si chiama di accoglienza diffusa attraverso degli appartamenti qualora si trovino situati in zone limitrofe anche in una situazione di rete per cui il gestore gestisce questi appartamenti con una certa autonomia in senso che gli ospiti degli appartamenti hanno un po' più autonomia rispetto agli ospiti dei centri di accoglienza collettivi. Quindi sono ben accetti sia situazioni come immobili tipo ostelli piuttosto che collegi piuttosto che ambienti unici grandi oppure anche degli appartamenti magari però non proprio piccolissimi non parliamo di bilocali o monolocali ma comunque appartamenti che abbiano una capienza di almeno 5-6 persone in modo anche da massimizzare la gestione perché poi vengono gestiti da un gestore, un operatore che in genere è un operatore sociale che ha la capacità di poi fornire una serie di servizi ai ospiti stranieri che si tratta di mediazioni varie, aiuto e supporto per quanto riguarda la loro pratica per accedere poi ai permessi di soggiorno per l'accoglienza e così via. Quindi la cosa che è importante è trovare in questo momento una provincia pescara e trovare strutture immobili da adibire a questa accoglienza. Poi sotto l'aspetto gestionale il proprietario dell'immobile non ha nessuna incombenza, nessun onere perché è tutto a carico del gestore che poi viene facendo un contratto, una convenzione con la prefettura quindi con lo Stato, con la pubblica amministrazione riesce in qualche maniera a fornire i servizi direttamente al compenso che viene riconosciuto da terni di legge. Le utenze vengono pagate da chi? Il gestore si occupa di tutto, dal vitto alloggio a quelle che sono le utenze, alla manutenzione dell'immobile. Questo fosse un normale contratto di affitto che fa un operatore economico con il proprietario dell'immobile. E chi paga? Il gestore? Paga la prefettura attraverso i fondi messi a disposizione dal governo, dal governo centrale. È un rapporto normale di tipo economico tra un operatore economico e il proprietario dell'immobile come in qualunque contratto di affitto che si purebbe un cittadino o un operatore economico per affittare un ristorante piuttosto che un albergo, piuttosto che un appartamento.